A disposizione ci sono Martinelli, Gelli, Frascadore, Siniscallo, Burchielli, Palazzo, De Pascalis, Parrini e Rocco. Prova a crearsi lo spazio per il cross, il rinvio però non allontana il pallone, allora il cross di Poli per Pietro Battista. Stop con il petto, Martini con il mancino, va verso la porta, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Poli senta l'anticipo, Vecchiarelli, si riesce, lancia di BG che è molto interessante per Saccardi, con il controllo, si porta avanti il pallone, entra all'interno dell'area, postato a traversare, il passaggio è per lui, lo aggancia, ma viene chiuso dalla difesa del San Donato, prova a girarsi, lo scarico all'indietro per BG, al destro, finisce sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica del gol. Il cross è molto interessante, colpisce di testa Vinci, il pallone arriva dalla parte opposta per Galligani, ha tentato la battuta, palla sull'esterno della rete, è andata sull'esterno della rete, la punizione di Martini, BG non trova il pallone, Gemignani tenta la sforbiciata, si trattava di Saccardi, ha sparato, atterra Signorini, l'allungo di Vecchiarelli, sensazione interessante per il San Donato, Vecchiarelli mette al centro per Giordani, pallone, tendone agganciato da Galligani, e c'è il calcio di rigore in favore del San Donato Tavernelli. Arriva il fisco del direttore di gara, in corsa di Giordani, in corsa lenta, poi calcia nell'angolo e mette in rete il vantaggio del San Donato Tavernelli, firmato da Giulio Giordani. Poli restituisce il pallone a Vinci, il cross è rapidamente, il traversario fa da sponda per Pietro Battista, il mancino di Pietro Battista, palla sul fondo, un po' incartato qui Galligani, non è riuscito a liberarsi di Martini. Intanto arrivano i due fischi del signor Gianquinto, finisce il primo tempo grazie alla rete su calcio di rigore, realizzata da Giordani, da palla al piede di Vecchiarelli, dopo che hanno trovato come Ucci. C'è Giordani che chiede palla sulla sinistra, preferisce andare da Galligani, la conclusione di Galligani si insacca alle spalle di Finperanza per il 2-0 del San Donato Tavernelli, quando siamo al quinto minuto della ripresa, che ancora una volta c'è lo zampino, ma più che altro le talcate di Gabriele Vecchiarelli per la rete del San Donato Tavernelli. Con Alessandro Vinci, Martini di prima intenzione, una giocata che tenta spesso il mediano dello Scandicci, Saccardi, la conclusione bloccata facilmente da Signorini, Cauterucci, cross all'interno dell'area, di testa Traversari, prova a prolungare per Saccardi, blocca a terra, punizione di Poli, Giampà, dà per la conclusione di Traversari, palla sull'esterno della rete, Petracchi, quasi irriconoscibile Petracchi dopo l'intervento precedente, il tiro cross diventa interessante, Finperanza ci pensa lui a salvarlo, un ottimo intervento. Controllo di Alderotti, poi scivola, tocca il pallone con il braccio, era già ammonito, e ora Andranzi sempre negli spogliatoi, arriva il rosso per Alderotti, inevitabile. Galligani, Galligani, scarico è per Gemignani, arriva di gran carriera, poi dà per Giordani, anzi per Galligani, prova a saltare Timperanza, è bravo a chiuderlo, a salvare un altro pericolo, sterzata di Poli, a sostegno, arriva Sinisgallo, che cross, è un po' di sterzata di Saccardi, il pallone arriva dalle parti di Pietro Battista, Signorini lo fa suo, di Giordani, la chiusura di Giampà, Sinisgallo, verticalizza, il pallone è buono per Saccardi, si presenta davanti al portiere, e la mette dentro, Saccardi, lo splendido assist, da parte di Sinisgallo, ha liberato Saccardi, per avere il match, quando siamo al 46esimo, bravissimo e rapidissimo, Saccardi è riuscito ad ingannare, la difesa del San Donato di Tavernello, lo rincorre Sinisgallo, Montini riesce a servire Giordani, Giordani davanti a Timperanza, al tocco, la palonezza di Timperanza, che recupera ancora, per gli ultimi secondi, tutti da seguire, sta per fischiare, però direttore di gara, che fuori due volte, senza prolungare il recupero, vince il San Donato di Tavernello, 2-1 a Sturri,